buongiorno allora mentre vi parlo si stanno svolgendo le visite mediche di tiago giallò vi faccio vedere anche le immagini gentilmente offerte mi da giovanni albanese dal collega giovanni albanese andate a vedere anche il suo canale iscrivetevi anche il suo canale valentissimo collega di torino quindi può seguire molto più da vicino le vicende le situazioni tiago giallò visite mediche importantissime perché come ben sapete solo fa va valutato non solo l'intervento al crociato dello scorso marzo ma soprattutto il recupero che punto è e quanto la juve dovrà intervenire su questo recupero e per quanto tempo ovviamente il tutto subordinato al fatto che passi le visite mediche però insomma c'è sicuramente ottimismo in tutto questo altrimenti la juve non si tuffava in questa operazione la juve invece si è tuffata oltre l'inter nella partita con la partita di ieri e però bisogna sempre ricordare sempre ricordare che l'inter avrà una partita da recuperare io sto notando molta euforia molto entusiasmo è giusto che ci sia molta gioia nel vedere la juventus ovviamente a parte i juventini perché tutto il resto d'italia non lo è nel vedere la juventus no anche qualche juventino non è entusiasta nel vedere la juve prima in classifica però vabbè insomma sono vabbè è il solito discorso però ripeto l'aritmetica non è un'opinione di conseguenza ci sarà un recupero della partita dell'inter in ogni caso c'è da giocare anche la partita di sabato contro l'empo l'inita giocherà se non sbaglio contro la fiorentina e poi ci sarà il 4 di febbraio questa partita che non deciderà assolutamente nulla perché secondo me nei progetti della juve c'era anche e soprattutto questo cioè il fatto che il 4 di febbraio comunque andasse la partita o comunque andrà la partita la juve sia in ogni caso lì lì attorno ecco lì attorno che non sia completamente sganciata dalle operazioni della situazione ricordiamo che l'inter recupererà la partita il 28 di febbraio se non vado errato quindi comunque c'è tempo e modo di capire come arriveranno le due squadre a quel punto lì allegri non si è a questo punto più nascosto ha fatto questo bel discorso del provare a rendere possibile l'impossibile poi se qualcuno sarà davanti alla juve bisognerà solo stringergli la mano mi è sembrato un discorso molto tranquillo molto sereno è chiaro che umanamente anche lui adesso segue sente un po il sangue ribollire però il suo dovere è di mantenere la coerenza col suo aplomb diciamo durante la conferenza stampa perché l'avete visto anche ieri sul anche sul 2 a 0 si è arrabbiato terribilmente durante la partita per alcune leggerezze che ha visto e affrontare questo futuro diciamo così con la massima serenità diciamo che sia anche un po come dire messo in una sorta di zona di conforto dicendo noi ci proviamo vediamo quello che succede sa che se va bene è il massimo se non va bene comunque l'obiettivo era arrivare tra i primi quattro posti e avere l'accesso alla champions e questo è un obiettivo tangibilmente molto più vicino di quanto non lo sia un eventuale primo posto alla fine del campionato bisogna procedere con molta calma e con molta serenità con molta cautela perché sempre come ha detto allegri il calcio è lì pronto a smentire immediatamente tutto ciò che tu pensi di aver fatto detto costruito e quant'altro e realizzato quindi assolutamente mi piacerebbe che tutta la gente juventina al di là dell'essere contenta al di là di quelli che sono scontenti al di là di essere contenta stia anche con i piedi per terra stia anche con i piedi per terra perché perché è una fase molto delicata nella quale molti dei giocatori attuali della rosa la maggior parte non essendo abituati a vincere potrebbero sconfinare in quella euforia che poi diventa una sorta di effetto boomerang può diventare una sorta di effetto boomerang e questo è un momento in cui da parte di allegri che invece abituato a vincere lo è ieri vinto la 300esima partita in serie a la 200esima con la juventus la 200esima con la juventus ecco allegri dovrà lavorare su questo nuovo step cioè non farsi prendere l'euforia non andare oltre cercare di gestire bene i momenti le situazioni perché perché alla juve è diverso dalle altre società ve lo avevo detto ve lo dico da sempre ve lo dirò sempre non è come l'inter e il milan sono tre grandi società come ha detto allegri ieri ha citato lippi non lì cosa ha detto che ha una discreta lippi che ha una discreta esperienza di vittoria anche in europa va bene ok e anche a livello mondiale diciamo così no visto il mondiale 2006 però lì cosa aveva detto che le critiche le pressioni alla juventus sono diverse rispetto a quelle che hai al milan all'inter perché perché c'è la storia dei 38 scudetti boom cioè devi gestire anche questa situazione qua cioè il discorso che sul campo sai di aver vinto 38 scudetti ma ufficialmente te ne vengono riconosciuti 36 quindi sei attaccato anche in questo e quant'altro c'è stata la situazione dell'anno scorso un anno fa pensate pensate un anno fa cosa si pensava della juventus e cosa provavano i tifosi della juve al di là di quelli che pur essendo tifosi magari godevano di questa situazione e cioè pensate un po a tutto quello che era successo l'anno scorso che c'erano questo pensate dove si trova la juve in questo momento che non significa avere il passaporto per arrivare assolutamente in testa della classifica significa essere lì a lottare cosa dicevamo all'inizio della stagione io aveva il dovere di essere lì a lottare fino alla fine della stagione lo sta facendo ma la fine stagione ancora lontana è la fine stagione è ancora lontana rispondo a chi dice che io me la prendo con con costi non me la sto prendendo concorso assolutamente sto semplicemente dicendo che costi sta rendendo meno dello scorso anno è al 50 per cento rispetto all'anno scorso ma ha fatto l'assist sul colpo di testa di mckenny ragazzi un giocatore non si valuta per una giocata sola si valuta nell'arco delle partite e ci mancherebbe altro che non fosse in grado di fare questo passaggio questo lancio per mckenny sul gol poi che blauic gli ha sostanzialmente portato via all'ultimo istante ma va valutata la prestazione della sua interezza non me la sto prendendo con miretti miretti gioca male perché voi giornalisti lo fate giocare noi giornalisti lo facciamo giocare male mi sono sentito ho letto anche una roba di questa noi giornalisti facciamo giocare male miretti no ma anche qui non è che mi sto accanendo sto semplicemente dicendo che miretti ma mi sembra che sia opinione condivisa e basta anche andare a leggere giornali giudizi eccetera in questo momento qua non è all'altezza della situazione era meglio fosse per lui ma lo dico dall'inizio stagione che andasse a giocare un'annata intera ma qualche altra parte lo voleva la salernitana per esempio poi adesso non poteva immaginare quello che era successo quello che è successo a pobà fagioli eccetera eccetera e poi su blauic qualche mese fa dicevi che blauic era da buttare via o comunque non era mai no 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 fermi tutti io dicevo che blauic era indietro tecnicamente ma questo non significava che blauic non potesse crescere tecnicamente e ho sempre detto da inizio stagione che non mai avrei fatto lo scambio con lukaku andatevegli a vedere i video di inizio stagione a chi mi fa notare queste cose io non mi sto rimangiando le cose assolutamente se è vero che qualche mese fa era indietro tecnicamente da un mese e mezzo o due a questa parte è cresciuto anche tecnicamente ma era normale che fosse così a questa età casomai sbagliava chi lo magnificava allora e dava contro ad allegri perché faceva notare che aveva delle mancanze o delle lacune a livello tecnico di controllo di palla di gestione della situazione di gestione anche mentale delle partite sta progredendo in tutto questo ma non è un contraddirsi rispetto a quello che si diceva un anno fa o qualche fino a qualche mese fa è stata un'evoluzione delle cose spero di essere stato chiaro mi fermo qua ci vediamo questa sera anche perché avremo l'esito delle visite mediche di giallo e quindi potremmo commentare a altre situazioni scusate mi confondo sempre che si sta accortando con la tecnicopatria ciao ciao ciao